Ciao degustatore! 8 di dicembre, noi stiamo finendo alcuni preparativi per mettere fuori l'albero, fare qualche decorazione in casa, però andiamo ad aprire la birra di oggi. 8 di dicembre Toll! Non poteva mancare anche quest'anno una birra di questo birrificio eccezionale che abbiamo già visto durante le scorse puntate dei Merry Christmas l'anno scorso, che è anche di quelle uscite mensilmente. In questo caso Toll ci preverta la sua birra di Natale prodotta esclusivamente per sauer birre e impacchettata da quei fantastici Elfi che ancora non ho capito dove vivono. Ci porta a questo giro una Ipa, double Ipa per essere precisi. Sicuramente sarà qualcosa di eccezionale come ci ha già provato a portare Toll. Bene, io la vado a provare e come sempre se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e ci vediamo domani per un nuovo appuntamento e ti faccio vedere anche come abbiamo finito di decorare l'albero. Ciao!